Prima mi era sparito il sorriso, non ridevo, avevo sempre la bocca chiusa, faccio fatica a ridere prima. Io ho avuto problemi di piorrea e non se ne sono accorti in tempo. I dottori avevo i denti che mi staccavano da soli, cioè i denti me li staccavo io perché venivano giù da soli. Dopo sono andato al dentista, forse era già anche un po' troppo tardi, e il dentista mi ha detto che noi non possiamo mettere perni, non possiamo fare niente, perché mi si era ritirata talmente tanto la gengiva che non potevano attaccare i perni, mi poteva mettere solo quella mobile. E io lì ho detto no, dopo tramite un amico del mio capo mi ha consigliato questo posto perché lui è venuto, ha detto che si è trovato benissimo. Io non ci credevo, giuro, io fino all'ultimo non ci credevo. Il mio capo ha insistito che venivo e ho messo dei denti zircone, che adesso mi trovo benissimo, anche adesso assaggiare la roba di cucina si può. E un bel sorriso ci vuole ogni tanto. Prima mi era sparito il sorriso, non ridevo, avevo sempre la bocca chiusa, faccio fatica a ridere prima. Invece adesso mi sento rinato. Però non ho avuto problemi, nessun problema, nessun tipo di problema per me. Se dovrei rifare, lo rifarei subito, subito proprio. Io ho avuto proprio ottimi dottore, spettacolare, fantastico. Non ti fa mai sentire male, appena è qualcosa lui si ferma subito. Si sta proprio dietro, come un fratello si sta dietro, veramente. Ed è fantastico. Io non credevo di avere tutta questa capacità adesso di parlare, di mangiare. Invece con lui mi ha fatto imparare subito a fare tutto. Prima facevo le fotografie, ero sempre... Sorridi? E tutti mi dicevano sorridi, eh, sorridi. Sorridi cosa? Adesso sicuramente perché ho i denti, più nessuno mi fa le fotografie. Bella.